Sono in corso accertamenti da parte di procura e carabinieri sulla morte di un bambino di appena tre anni avvenuta ieri sera a Bordighera. La famiglia del piccolo risiede nella frazione di Sasso e gestisce un bar. Il nonno ieri è andato a prendere il bambino all'asilo rodare di Bordighera. Una volta giunti a casa il piccolo è iniziato a star male. Subito si è pensato a qualcosa che poteva aver mangiato, che gli avesse provocato disturbi, ma poi la situazione è peggiorata in breve tempo e il bambino è stato portato al pronto soccorso dove ha poi smesso di vivere. Stando ad alcune indiscrezioni sul suo corpo sarebbe stato riscontrato anche un livido, ma tutti gli accertamenti sono ancora in corso e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Il corpicino è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio di Sanremo. La morte del bimbo ha ovviamente creato profondo dolore a Bordighera e Sasso dove la famiglia è molto conosciuta. I sindacati Fim, Fium e Wilma hanno chiesto un incontro urgente al Ministero per lo Sviluppo Economico per tornare ad affrontare la questione del futuro della Piaggio di Villanova d'Albenga e Genova e dei suoi oltre mille lavoratori. Nel documento stirato dai sindacati si chiede anche di estendere l'amministrazione straordinaria alla Lear di Albenga, fornitrice strategica di Piaggio. Sindacati e lavoratori inoltre vogliono sapere quale sia il piano che intende mettere in campo il governo per rilanciare l'azienda Ligure visto che sembra ormai sfumata la commessa dello Stato italiano per la fornitura di droni per la quale il precedente governo aveva stanziato 766 milioni di euro. A sostegno di sindacati e lavoratori e delle loro richieste si sono fatti avanti anche i consiglieri regionali del Partito Democratico Giovanni Lunardon e Luigi De Vincenzi che denunciano in merito alla vicenda Piaggio un perdurale di assordante silenzio da parte del governo e chiedono che i 766 milioni di euro stanziati in precedenza per i droni vengano comunque messi a disposizione di Piaggio. Gli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo tengono e risultano in linea con quelli dello scorso anno. Ieri sera davanti al teleschermo per seguire la diretta dall'Ariston c'erano 9 milioni e 144 mila italiani con uno share complessivo del 47,3%. Si tratta della migliore tenuta della seconda serata negli ultimi tre anni e il terzo miglior risultato degli ultimi dieci fa sapere la Rai. La serata si è conclusa con la classifica parziale in base al voto della sala stampa che vede nella parte alta Daniele Silvestri, Arisa che ha sbagliato il testo ma l'ha subito recuperato, Achille Lauro e Roredana Bertè, unica cantante acclamata dal pubblico in sala con una standing ovation. Meno bene per Exo Tago, Il Volo, Gemon e Paola Turci, Male e infine Federica Carta e Shade, Neck, Negrita ed Eneinar. Tante anche ieri sera, forse persino troppe, le canzoni del conduttore e dirottatore Baglioni. Per l'omaggio di Baglioni al compositore Lelio Luttazzi, Virginia arriva sul palco con una poltrona elettrica al posto dello sgabello del pianoforte. Fra gli ospiti di ieri sera il più apprezzato dal pubblico in sala è stato Pippo Baudo. Il Pippo nazionale è stato letteralmente osannato. Verso fine serata, a notte fonda, la consegna del premio alla carriera al compianto Pino Daniele, ritirato dalle figlie Cristina e Sara. Colonello, uno stand informativo dell'arma dei carabinieri, proprio a due passi da dove si svolge il Festival di Sanremo. Con quale finalità? Ma fondamentalmente pubblicizzare i prodotti dell'arma è diminutivo, vuole essere solo un altro punto di partenza per dimostrare la nostra presenza costante sul territorio e essere a disposizione della cittadinanza. In particolare qui c'è l'esposizione di mezzi, c'è una moto del dopoguerra e una invece modernissima. Sì, la moto del dopoguerra è un superalce che ha fatto la storia dell'arma nell'immediato dopoguerra, quindi anni 46-47. La MW Augusta invece è stata donata all'arma in occasione del bicentenario dell'arma. Veniamo alle vetture, sono due mezzi veloci particolari, come vengono usati? Fondamentalmente lo scopo di questi mezzi, proprio perché sono particolari, quindi bisogna avere del personale specificamente abilitato, vengono utilizzate per il trasporto di organi e di sangue. Solitamente sono le AS degli ospedali che ci interpellano e sono equipaggiate con celle frigorifere per l'esigenza e quindi grazie a questa loro capacità di guida degli autisti e alle peculiarità motoristiche dei mezzi è possibile fare questi trasporti in tempi rapidissimi. Questo stand è stato aperto da pochissimo e sta rispotendo un enorme successo. A noi fa sicuramente piacere, anche perché vedere i cittadini, i turisti che si fermano curiosi per chiedere se non altro il perché o per fare la fotografia vicino ai nostri mezzi o chiedere informazioni su quello che fa l'arma al festival e poter dire che la sicurezza è uno degli obiettivi prioritari, per noi è una grande soddisfazione. Ed è anche un grande impegno? Sì, è un impegno anche perché il tutto viene deciso in sede del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica e il dover impiegare oltre 130 uomini è un grosso sacrificio. E viva l'arma! Grazie, grazie a voi. Però dove vai tu è troppo lontano. Gianni, come mai qui a Sanremo? Sono qua a Sanremo perché è un cd nuovo che si chiama Peccati non ne ho, con un remix di Fichi Fichi 3.0 e adesso ve lo faccio vedere. Dammi un cd, guarda. Direttamente, nuovissimo, Peccati non ne ho. Cosa ne pensi del festival di quest'anno? Allora, io sono arrivato ieri sera e purtroppo non l'ho visto tanto, però ci sono molti artisti importanti e bravi, quindi credo che sia un festival giusto, bello. Sanremo è sempre la città della musica, è anche una bellissima città. Saremo, certo, sempre la città della musica, del divertimento, dello spettacolo, in tutto per tutto. Grazie. Graziano Colombo è la rappresentante della Liguria nel Consiglio di Amministrazione della Banca Caraglio e c'è questo rinnovo di una convenzione, di un accordo con la ConfCommercio, insomma un modo per essere vicino in maniera concreta alle imprese, anche attraverso finanziamenti, mutui, credito. Sì, certo, rinnoviamo con piacere questo accordo che è già da alcuni anni in vigore, con reciproche soddisfazioni. Siamo una banca del territorio, quindi lavoriamo sul territorio, lavoriamo col privato, ma soprattutto con le imprese che nel lavoro qua impiegano tutte le loro energie. Siamo presenti già anche, sempre in accordo con ConfCommercio, abbiamo stabilito un plafond in autunno per tutti i danni delle mareggiate e questa è anche una grossa importanza per chi ha avuto problemi. E adesso con questo rinnovo di ulteriore accordo andiamo incontro a tutte quelle aziende, o aziende quindi start-up nuove che vogliono crescere oppure altre aziende che vogliono comunque crescere, hanno bisogno di un aiuto, di un contributo. Ed è giusto proprio che per avere queste cose ci sia l'intervento dell'associazione sindacale, quindi della ConfCommercio che sa indirizzare su quelle che sono le condizioni migliori e ci deve essere il contributo della banca, dalla banca del territorio che aiuta proprio, che porta avanti tutte le iniziative. Livio Ottomatis, il presidente di Banca del Caraglio, allora banca del territorio si diceva, il territorio è economia, è tessuto economico, le imprese sono fondamentali per questo tessuto ma devono giustamente avere un sostegno, questo è un rapporto diretto che avete ormai consolidato con ConfCommercio in questo senso? Sicuramente, lei ha detto si diceva, si dice, è banca del territorio, quindi sì, la banca di credito e operativo sono banche del territorio, sono quelle che sono a contatto diretto con le famiglie, le piccole e medie imprese che poi sono la linfa vitale del nostro territorio, quindi proprio è una missione, sempre stata una missione quella delle banche di credito e operativo, forse adesso lo è più di fino a 800, diciamo gli anni in cui sono nate, perché voglio dire il fermento è sicuramente maggiore e la necessità di un credito onesto, ponderato è sicuramente la linfa diciamo fondamentale per portare avanti questa economia che ormai da decenni voglio dire naspa e quindi sì, la banca di Caraglio penso sia importante sia per quest'area Ligure che per tutto il Piemonte, perché ormai arriviamo fino a Torino e quindi ci siamo ingranditi ma siamo rimasti quelli di sempre. Enrico Lupi, Presidente provinciale di Confcommercio, ma ancora una volta la vicinanza alle imprese passa anche attraverso agevolazioni per quello che riguarda il credito, vale per le imprese esistenti, vale per quelle che magari vogliono nascere e cercare giustamente dei supporti? Noi siamo fortemente impegnati nel settore del credito perché è strategico per la crescita ma anche molte volte per la continuità delle imprese e anche di fronte a calamità naturali a volte è necessario un intervento straordinario di supporto. Con Banca di Caraglio abbiamo una collaborazione antica, oggi siamo al rinnovo di questa convenzione per tassi agevolati, supporto alle start up e quindi noi vogliamo creare un canale preferenziale perché le nostre imprese abbiano una valutazione la più veloce possibile, risposte in tempi rapidi e anche una considerazione ripeto grazie all'aiuto di Confcommercio che fa anche uno studio, una pre-analisi, diamo anche un supporto amministrativo contabile di valutazione finanziaria per mettere nelle migliori condizioni di valutazione da parte dell'istituto di credito le pratiche delle nostre utenze. Il festival tra polemiche e lodi perde audience ma ugualmente fa notizia. I migranti sembrano ormai soltanto esclusivamente una questione di canzonette, di battute e controbattute. Il treno ad alta velocità, la TAV, tiene banco con i suoi trafori, le sue spese, le tante dichiarazioni spesso contraddittorie e dando nonostante tutto il timone in mano ai francesi che sanno sicuramente più di noi, compresi i costi. Succede di tutto e di più ma la sagra canora sanremese, nonostante tutto, tiene banco facendo passare in secord'ordine anche il reddito di cittadinanza che già dal nascere fa saltare fuori come gli italiani siano sempre più furbetti e come le reazioni di pancia abbiano il sopravvento su quelle di testa. Il mondo e l'Italia sono comunque in movimento, un movimento continuo con novità che spesso spiazzano anche i più accaniti degli aiutiamoli a casa loro, riferito ai migranti, senza magari accorgersi che l'integrazione, se seria e pura, dà i suoi frutti. Così, notizia passata un po' sotto gamba, quella del primo avvocato di colore, di colore nero, entrato a far parte di un ordine professionale. È il primo migrante della storia eletto per una categoria prestigiosa come quella degli avvocati. Si chiama Ilari Sedu, è nigeriano, ha 32 anni, ex calciatore della Salernitana e è stato eletto nel Consiglio degli Ordini dei Legali degli Avvocati di Napoli. Bella notizia, vero? Ecco sfatato il fatto che i migranti sono tutti vucupra, spacciatori e nulla facenti. San Teodoro. Il Teodoro venerato oggi era un generale dell'esercito, martirizzato ad Eraclea al tempo di Licinio e sepolto in Turchia. Originario dell'Oriente, era stato trasferito nei quartieri di Amasea, al tempo dell'imperatore Galerio Massimiano. Promulgato un editto col quale si ordinava ai soldati di sacrificare agli dèi, Teodoro si rifiutò. Duramente torturato, fu bruciato vivo intorno al 320. Fu patrono di Venezia, prima di San Marco, fino al secolo XIII. Secondo un'antica tradizione, nel secolo XIII il suo corpo fu trasferito a Brindisi, in un altare della cattedrale. È patrono dell'esercito e protettore dei militari e viene invocato per guarire i mali della gola.